Siete sicure di averlo ucciso al momento giusto? Ne siamo certissime, Eminenza. Aveva rinnegato se stesso e tutte le sue convinzioni. Così adesso si tormenterà in eterno. Brave, brave ragazze. Avete fatto un eccellente lavoro. Ma è stato difficile, molto difficile. E lo diventa sempre di più. Eh, lo so, lo so. Questa gente con le sue nuove idee sta influenzando tutto il mondo. Bisogna far presto, bisogna eliminarli tutti prima che sia troppo tardi. Se continua così non servirò più a niente. Stanno tutti perdendo il gusto del peccato. E chi ci guadagna? Non sono certamente io. Bisogna che vi diate da fare, altrimenti sapete quello che vi aspetta. Non riusciamo più a corromperli in alcun modo, Eminenza.